Abbiamo aderito a questa convenzione, la strutturiamo molto volentieri, nel senso che riteniamo una grossa opportunità per gli enti comunali, per il territorio, affrontare queste nuove sfide legate alle opportunità che la comunità europea mette a disposizione, in modo tale da crescere sia dal punto di vista formativo all'interno degli enti, sia rispetto alla possibilità di ottenere risorse importanti per intervenire nei vari settori, nei nostri comuni e nei nostri enti. La collaborazione con enti anche superiori rende questo percorso molto strutturato e rispetto al quale abbiamo una grande fiducia e aspettativa.